Sura 84 Al-In-Shikak La fenditura In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. Quando si fenderà il cielo, e obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà. Quando la terra sarà spianata, rigetterà quello che ha in seno e si svuoterà, e obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà. O uomo che anelia il tuo Signore, tu lo incontrerai. Quanto a colui che riceverà il suo libro nella mano destra, gli verrà chiesto conto con indulgenza, e lietamente ritornerà ai suoi. Quanto a colui che riceverà il suo libro da dietro le spalle, invocherà l'agnentamento, e brucerà nella fiamma. Si rallegrava in mezzo ai suoi, e pensava che mai sarebbe ritornato ad Allah. Invece sì, in verità il suo Signore lo osservava. Lo giuro per il crepuscolo, per la notte e per quello che essa avvolge, per la luna quando si fa piena. In vero passerete attraverso fasi successive. Cos'hanno dunque che non credono, e non si prosternano quando si recita loro il Corano? I miscredenti invece tacciano di menzogna, ma Allah ben conosce quel che celano. Annuncia loro un doloroso castigo, eccetto che per coloro che credono e compiono il bene. Essi avranno ricompensa inesauribile. Grazie a tutti.